Grazie a tutti. Digitare qui la domanda del sondaggio. Cliccare su opzione 1. Digitare qui la prima risposta possibile. Cliccare su opzione 2. Digitare qui la seconda risposta possibile. Se si desidera offrire più risposte tra cui scegliere, cliccare su aggiungi un'opzione. Digitare qui la terza risposta possibile. Quando si è terminato di scrivere le risposte del sondaggio, cliccare sotto su Salva. Se si desidera che anche i partecipanti al Meet vedano i risultati del sondaggio, cliccare per attivare l'opzione Mostra i risultati a tutti. Per avviare il sondaggio, cliccare su Lancia. Quando si è terminato di raccogliere le risposte dei partecipanti, cliccare su Termina il sondaggio. Il sondaggio è terminato. Cliccare sulla freccia a sinistra per ritornare al pannello delle attività. Cliccare sulla crocetta se si desidera chiudere anche il pannello delle attività. Fatto!